Grande sospiro di soleo, era una partita difficilissima, io avevo veramente tanta paura per questa gara per mille motivi, in effetti si è rivelata tale, perché comunque era necessario, obbligatorio, fondamentale vincere e in qualsiasi maniera alla fine ci siamo riusciti con tanta tanta sofferenza, forse troppa però adesso abbiamo anche capito cosa vuol dire dover e poter fare tre punti in questo sette Ecco perché siamo stati magari in più sotto tono rispetto alle altre volte, un po' la predecesione ha lasciato strasci che un po' proprio per l'importanza della posta No, no, ma ci sono tante componenti, è una cosa normale che poi quando ti arrivi nel ras finale del campionato il calcio, dico il vero calcio, scade di tono perché l'importanza del risultato è importante e poi quando c'è la terza partita in otto giorni comunque la paghi, non dico che la paghiamo solo noi anche agli altri, però solo noi oggi avevamo qualcosa da perdere perché dovevamo provare a fare la partita quindi era questo che io temevo tantissimo e che ero sicuro di dover soffrire però alla fine la sofferenza per certi versi ci ha premiato Siamo migliorati in classifica e il problema è che adesso abbiamo due trasferte Cosa vuol dire? Io sono convinto che vinciamo domenica Cittadella Io dico che la partita difficile era oggi, non dico che Cittadella è facile però credetemi oggi era veramente una partita difficile adesso Cittadella e Salerno non dico che sono passeggiate, sono partite delicate, importanti andiamo a Cittadella contro un avversario che sta non bene, benissimo, non so da quanti treni però io sinceramente ho tanta fiducia per Cittadella Oggi cosa ti è piaciuto di più? La capacità di sofferenza della squadra? Oggi mi è piaciuto il risultato perché questo era fondamentale poi come è arrivato, adesso ne discuteremo e lo sappiamo però c'era tanta difficoltà in tante situazioni oggi per poter, o avevamo la fortuna di poter sbloccare il risultato subito cosa che non è stato, per di più loro stavano anche forse meglio di noi perché noi a tratti sembravamo impiccati da un punto di vista fisico quindi sai, era difficile tutto questo componente e purtroppo non arrivare al risultato sarebbe stato un dramma Grazie